Kenas e si rinnova il duello con Sanders, questa volta è l'americano a marcare su Kao Kenas, Polonara c'è il fallo sul tiro e qui c'è anche un brutto gesto andiamo a ricostruire, Sosa si è lamentato molto per il fallo che gli è stato fischiato un tifoso dagli spatti è sceso e ha fatto il gesto del fallo tecnico a Edgar Sosa ovviamente è inutile dirlo, è banale, è un'ovvietà ma i tifosi non dovrebbero mai entrare in contatto con i giocatori ecco qui cosa succede e ovviamente Sosa si arrabbia per la situazione che si è venuto a creare perché lui si stava soltanto arrabbiando con se stesso e con gli arbitri lui che è un giocatore fuocoso, Edgar Sosa e ora Sacchetti sta cercando di calmarlo è stato toccato dal tifoso, questo non è possibile, non è accettabile ovviamente Maurizio per Sosa è doppio fallo, quello commesso sul campo e poi il fallo tecnico quindi terzo e quarto commesso e la Monica ha chiesto che il tifoso sia allontanato dal palazzetto è il tifoso che viene allontanato dal palavigi, esce da questa partita grazie a tutti grazie a tutti